Sede dei Marchesi di Saluzzo, dal Medioevo alla fine del Cinquecento, la Castiglia, nome che trae origine da I Castelli, viene adibita a caserma e poi, dalla prima metà dell'Ottocento, a carcere, per essere chiusa nel 1992. Dal 2006 il complesso è stato sottoposto ad un lungo e attento restauro ed è stato restituito alla funzione pubblica e ora ospita spazi museali, espositivi e archivistici. Suggestivo ed emozionante è il percorso al piano seminterrato nella visita al Museo della Memoria Carceraria. L'allestimento multimediale consente una riflessione sul carcere, il suo significato storico e i suoi rapporti con l'arte, il cinema e la letteratura. Personaggi virtuali raccontano storie di malavita, come il Brigante del Pero, nato a Canale nel 1832, e giustiziato a Bra nel 1858, oppure di impegno civile e solidarietà, come quella raccontata dalla Marchesa Giulia Colbert di Barolo. Al terzo piano della Manica Ottocentesca della Castiglia è visitabile il Museo della Civiltà Cavalleresca. Un percorso multimediale nelle undici sale, tra imponenti e a volte solenni scenografie, alla scoperta del Marchesato di Saluzzo, delle vicissitudini dei Ludovico e dei Tommaso, ma anche di Margherita di Foix e di Griselda. Un viaggio nella storia e nella società cavalleresca e cortese del Marchesato, con Saluzzo al centro di una fitta rete di relazioni tra poteri civili e religiosi.